Lutto ha davanti un altro. È morto Emanuele Vaccarini, uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L'uomo, che aveva 44 anni, interpretava il gladiatore e faceva parte del cast sin dal 2019. Al momento non sono state rivelate le cause del decesso, anche se, secondo quanto riporta Tblog, l'uomo di recente avrebbe parlato sui social di alcuni problemi di salute. Chi era Emanuele Vaccarini? Emanuele Vaccarini è nato a Roma nel 1977. Avrebbe compiuto 45 anni il 18 luglio. Suo padre sperava che diventasse un calciatore, proprio come lui, ma Emanuele non sembrava appassionarsi a quello sport. Anche il padre, a un certo punto, dovette cedere e ammettere che forse il figlio non era tagliato per diventare l'erede di Totti. Ad aiutare Vaccarini a scoprire la sua passione, fu la madre. La donna, infatti, un giorno decise di iscriverlo a karate. E così, Emanuele trovò una disciplina a cui dedicarsi con piacere. Nel tempo, ha coltivato anche il bodybuilding, MMA, arti marziali e pugilato, insegnando anche questi sport. Per il suo fisico imponente, spesso veniva chiamato a interpretare il ruolo di comparsa nei film in costume di guerra. Ma l'uomo non si dedicava esclusivamente allo sport. Lavorava anche alle ferrovie. Inoltre, sulla sua pagina Instagram amava condividere con i suoi follower, ricette culinarie spesso appartenenti alla tradizione romana. Quello di seguito, è l'ultimo video pubblicato su Instagram lo scorso 28 maggio. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie. Grazie.